La Regione Toscana negli ultimi mesi ha annunciato la sua svolta ambientalista attraverso una revisione del piano regionale dei rifiuti approvato alla fine del 2014 con nuovi obiettivi da raggiungere entro il 2023. Obiettivi primi, riuso e riciclo sia dei rifiuti urbani che di quelli speciali che derivano dai processi produttivi dei distretti industriali della Toscana. Da un lato ci prefiggiamo nei prossimi mesi di bloccare il flusso di rifiuti provenienti da fuori Toscana, dei rifiuti urbani o trattati e diventati speciali, comunque sempre urbani. Si tratta di una misura intorno a 170.000-190 tonnellate di rifiuti, una cosa molto importante e questo è anche un modo con cui tuteliamo le risorse di smaltimento che abbiamo nella nostra regione senza farle occupare da altre regioni. Nello è anche la raccolta differenziata. Abbiamo portato una delibera che intende promuovere la raccolta differenziata spingendo soprattutto la raccolta della frazione umida, dell'organico. Abbiamo pensato di dare un'indicazione precisa in direzione del porta a porta. Parola d'ordine è quindi economia circolare perché l'obiettivo è quello di reinserire il più possibile gli scarti nei processi produttivi. I numeri sono alti. Nel 2015, ad esempio, il settore conciario ha prodotto 125.000 tonnellate di rifiuti, il lapideo 213.000 e il cartario 300.000. La regione Toscana in questi ultimi mesi ha brandito il tema dell'economia circolare con dei provvedimenti molto importanti, in particolare per quanto riguarda soprattutto gli interventi nel settore dei rifiuti speciali che poi sono quelli che hanno i volumi più importanti e soprattutto sono le risposte che diamo alle nostre imprese. Abbiamo intavolato una serie di consessi con gli imprenditori, con l'associazione categoria, con il mondo della ricerca. Sono un tavolo per ogni distretto produttivo, quindi parliamo della carta, del tessile, del lapideo, dell'oro e in questi contesti intendiamo stimolare le proposte degli imprenditori per la chiusura dei loro cicli produttivi e supportare ovviamente con adeguato contributo della ricerca e ovviamente delle istituzioni per mettere in campo quelle soluzioni innovative che possano consentire di conseguire il massimo riciclaggio e recupero di materia ma anche, devo dire, una riduzione poi di costi per le imprese perché smaltire costa molto per le nostre aziende. Obiettivo dei tavoli è prevedere le migliori forme di smaltimento dei rifiuti e capire dove destinare gli scarti finali delle lavorazioni, cioè i rifiuti che non possono essere in alcun modo riutilizzati o recuperati. Tra tutti i settori produttivi ce ne sono alcuni che necessitano di interventi più urgenti. In questo momento sicuramente il cartario che vede una produzione di PAL perché è lo scarto finale della lavorazione della carta da mascero intorno ai 120.000 tonnellate annue. Sono rifiuti che peraltro in questo momento prendono destinazione fuori Toscana, vanno a Terni, vanno a Brescia, ne impianti di termovalorizzazione e quindi dobbiamo studiare su quella tipologia. Altro ambito è il tessile con una produzione di scarti intorno a 45.000 tonnellate. è chiaro che lì dovremo favorire ancora di più il recupero di materia, dopodiché insomma dobbiamo trovare anche le forme di smaltimento più done. Anche per questo la Regione ha intavolato un dialogo stretto con i diversi distretti industriali interessati dai provvedimenti per il recupero e il riutilizzo dei rifiuti e le aziende si sono rivelate molto sensibili al tema dell'economia circolare. C'è una risposta importante, abbiamo cominciato con i primi due tavoli, col cartario e col essere per l'appunto, per un ordine di priorità. Devo dire che però girando le aziende della Toscana in questi anni il tema dell'economia circolare e soprattutto come questo può rappresentare una risposta alle esigenze delle aziende in ordine al recupero di materia è un tema attualissimo e verso il quale le aziende manifestano un grande interesse. Quindi sono convinta che il lavoro di questi tavoli sarà assolutamente proficuo. Gestione virtuosa dei rifiuti significa anche e soprattutto raccolta differenziata per ridurre progressivamente il conferimento in discarica. La Regione Toscana si è posta all'obiettivo del 70% di raccolta differenziata da raggiungere entro il 2020. L'obiettivo del 70% è raggiungibile in un'ottica di sistema. La gestione dei rifiuti urbani chiama in causa la Regione sicuramente ma i comuni che poi compongono leato, i gestori, gli impianti di destinazione finale. Quindi veramente si tratta di dare un'accelerazione da questo punto di vista al sistema intero. Proprio in questi giorni abbiamo incontrato intanto i comuni di autocentro. Sappiamo che il Presidente ha firmato un'ordinanza per evitare una situazione emergenziale. C'è bisogno in autocentro di dare una spinta soprattutto in alcune zone. Penso al Pistoiese, alla provincia di Pistoia piuttosto che al Mugello dove fra l'altro partiranno i sistemi anche di raccolta porta a porta anche perché il lato centrale è quello nel quale vive più della metà del popolo toscano e che certamente ha bisogno di dare un contributo importante. Dobbiamo lavorare molto anche negli altri due ambiti, in particolare al sud che per motivi anche orografici, un territorio molto esteso, ha più difficoltà. La costa sta marciando però come dicevo appunto è un obiettivo ambizioso ma che si può traguardare con un impegno rinnovato da parte di tutti. Una delle strategie da adottare per centrare il traguardo prefissato per il 2020 è il potenziamento della rete della raccolta porta a porta e della raccolta di prossimità. Di strada da percorrere ancora ce n'è molta ma la sensibilità di cittadini e aziende toscane in materia di rifiuti e tutela dell'ambiente è in crescita. La regione nel frattempo ha sbloccato le risorse necessarie. La Toscana sta lavorando, siamo ancora lontani dall'obiettivo del 70 perché siamo al 50,9 e quindi c'è bisogno di far passare a sistemi di raccolta porta a porta prima di tutto i grandi centri urbani. Abbiamo esempi Empoli e Luca su tutti che quando si passa da un sistema a un altro si conseguono anche risultati importanti in un tempo molto ravvicinato. Quindi abbiamo bisogno che anche gli altri capoluogo mettano in campo queste strategie, che ci sia un'estensione del porta a porta molto diffusa. È chiaro che questo necessita anche investimenti in termini di risorse. La regione toscana ha sbloccato 30 milioni derivanti dall'ecotassa, destinati prevalentemente proprio al sud della costa. Il centro ha già impiegato i suoi 5 milioni a cui aveva diritto e quindi ci aspettiamo proprio laddove anche abbiamo il gestore unico. penso al sud, al centro, nella costa si stanno strutturando che ci siano gli investimenti adeguati per arrivare appunto a traguardare questo obiettivo che è ambizioso ma assolutamente necessario. La tutela dell'ambiente non passa solo attraverso la corretta gestione dei rifiuti ma anche attraverso la prevenzione dei rischi di tipo idrogeologico e la difesa del suolo, ambito in cui di recente la regione ha approvato nuovi investimenti per circa 4 milioni di euro. Andiamo a intervenire in zone che hanno pagato a caro prezzo la mancata messa in sicurezza idraulica nel passato perché stiamo parlando di Aulla, due interventi molto importanti con un importo finale anche considerevole, siamo oltre 4 milioni soltanto per questi due. Poi un intervento sul carrione e sappiamo quali problemi ha creato all'abitato di Carrara questo tratto fluviale per il quale la regione ha commissionato uno studio idraulico proprio sull'intera asta fluviale per capirne le problematiche e poter intervenire in un'ottica di programmazione. E poi la zona della Piana, Prato Pistoia, anche questa lombrone pistoiese ha comportato notevoli danni negli anni passati, ora stiamo intervenendo con gradualità in un'ottica anche qui di priorità di intervento e viene finanziato il terzo lotto della Cassa di Pontassio quindi un'ulteriore Cassa di espansione, ce ne sono già alcune realizzate, che contribuirà a mettere in sicurezza un abitato importante come quello del Comune di Carrara. È una strategia regionale che si articola quindi attraverso interventi di messa in sicurezza, attraverso un documento operativo che non solo li raccoglie ma li gradua anche in un ordine di priorità stabilito sulla base del beneficio che l'intervento può portare per quelle zone e dell'effettiva canterabilità del progetto quindi non c'è un finanziamento senza avere tempi certi di realizzazione. Vengono messe risorse laddove siamo perfettamente consapevoli entro quale termine temporale l'intervento potrà vedere la sua realizzazione. Anche questo è un dato non indifferente per conseguire livelli di sicurezza adeguati. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.